Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua con una specie di doppio unboxing, in realtà è un unboxing singolo perché il primo unboxing, la prima parte l'ho registrata e poi mi sono accorta che il pacco che doveva essere uno in realtà era diviso in due e quindi ho già unboxato tutto e perciò vi farò vedere i libri che ho già unboxato e poi farò l'unboxing della seconda parte. La prima parte, allora l'ordine era composto in totale di 9 libri, era un ordine di Amazon che ho fatto grazie a un mio amico che mi sta, con cui sto diciamo collaborando perché io gli do ogni mese o più spesso ogni due mesi dei soldi e lui mi dà il doppio tramite i buoni Renzi. Lo so che teoricamente non è proprio moralmente corretto però io voglio libri, lui non vuole libri e quindi ci mettiamo d'accordo visto che io e il mio volo sono finito tipo dopo tre mesi, sì sono pessima. Ho preso 9 libri o meglio 8 libri e un fumetto barra graphic novel e il primo pacchettino era questo qua e conteneva 5 libri e una graphic novel. Vi faccio vedere, mi tolgo subito proprio il dente dolente che è dolente sia perché probabilmente, vabbè ve lo faccio vedere e basta. È un fumetto che non ho mai visto da nessuna parte, l'ho cercato perché sto cercando di recuperare delle graphic novel e dei fumetti particolari visto che ho letto solamente Nimona e Freezer. Nimona mi è piaciuto moltissimo, Freezer di Veronica Ave Cicaratelli invece per niente, le tavole sono molto belle ma la storia non mi è piaciuta molto, mi aspettavo molto di più anche per il prezzo abbastanza esorbitante. Mentre la Nimona che ho letto in inglese grazie ai miei amici fantastici che adoro e di cui vi lascerò se mi ricordo il link alla pagina Instagram sotto e è in un gruppo di Whatsapp ovvero il gruppo dove anch'io sono su Whatsapp. Del Sevi de Chiocciola, vi voglio bene ragazzi e mi avevano regalato appunto Nimona, Arianna, se non ricordo male mi ha regalato Nimona per il mio compleanno in inglese l'anno scorso e per i miei 18 anni. E mi è piaciuto tantissimo anche se non pensavo, è stata la mia prima graphic novel e quindi in questo periodo sto cercando, dopo quasi un anno, complimenti, brava Aurora, di recuperare un po' di fumetti o meglio appunto graphic novel e ho preso Paraiso Punk Rock Bar. Ok, non scandalizzatevi, sì, probabilmente è proprio quello che sembra, è un fumetto in bianco e nero, qui vi faccio vedere la prima tavola perché è una delle mie immagini scandalizzanti, scandalizzanti, scandalose, vabbè, io sono scandalosa. E' appunto in bianco e nero e è proprio un fumetto in realtà più che una graphic novel, è proprio, no questa non va bene, ecco forse questa mi sembra umana anche da farvi vedere. E' un tipo di risultato che non mi fa impazzire onestamente però ho già letto le prime due o tre pagine e sembra carina. E' ancora il lire, cioè 16.000 lire, questo è il davanti, questo è il dietro con le mutandine e parla fondamentalmente di queste due ragazze che aprono un nightclub mi sembra più o meno. Il sotto è così, molto carino, con il pentagramma e le faccino al posto delle note e niente, ho pagato meno di 8 euro. Sembra carino, era un'idea carina però appunto mi aspettavo fosse a colori e invece è in bianco e nero quindi vabbè. Poi ho preso un libro che è un wishlist da un sacco di tempo, ovvero il mio primo iperbore, sono molto emozionata. Ed è Il nostro bisogno di consolazione di Stig D'Algerman, con questa copertina bellissima. E' piccolissimo, cioè è microscopico, non so se vedete, sono 48 pagine di libro, scritte anche abbastanza grandi. Non so se si vede, ok. E costa 6 euro, ma io l'ho pagato appunto 5,10 euro mi sembra su Amazon. E mi interessava tanto perché è scritto da un autore svedese, io ho origini svedesi, tutto ciò che quindi riguarda la Svezia mi interessa parecchio. Inoltre l'autore è del 23 e morto suicida nel 54, quindi giovanissimo, poco più di 30 anni. E a me il tema del suicidio mi ispira sempre tantissimo. Detta così sembra molto brutta, ma è rata non è così brutta come sembra, ve lo giuro. Diciamo che le tematiche di suicidio e soprattutto le storie di suicidio realmente accadute mi interessano molto. E quindi ho voluto prendere questo piccolo libricino che è un libro, una raccolta praticamente di pensieri, aforismi, una specie di diario, diciamo una sorta di zibaldone molto più piccolino. E quindi sono curiosissima di leggerle, questo penso sia il libro di quest'ordine che è un wishlist da più tempo in assoluto. Questo è di Perborea, mentre la graphic novel era di K-edizioni di Javi Rodriguez. Ok, poi, devo andare più veloce. Ho preso... no, questo lo lascio dopo. Ho preso questa raccolta di racconti di Paolo Cognetti, Sofia si vuole essere sempre di nero, della Minimum Fax, per un prezzo di 14 euro, pagato sempre, come sapete, circa 12 euro, mi sembra. È un'edizione molto carina, mi piace tantissimo la copertina, pensavo fosse più grandi, invece sono un poco più di 200 pagine. Ed è scritto anche abbastanza grande. Ed è appunto la raccolta di racconti. È una delle mie prime raccolte di racconti, io non ho mai letto raccolta di racconti, se ne ricordo male. Se ne ho letta una, di Patrick Susskind, non mi ricordo come si chiama però, molto bella, comunque ve la consiglio, sono tre racconti bellissimi. Devo cercare di ricordarmi come si chiama. Non me lo ricorderò mai, vabbè, fa niente, Patrick Susskind è uno dei miei muteri preferiti, leggete il profumo, vedete il film. Chiusa parentesi, chiuso questo disclaimer, vabbè. Di Paolo Cognetti mi interessavano moltissimo, all'Ottomontagna, la edizione è stupenda, ma questo è un fottio. Quindi ho deciso di iniziare anche da un'opera minore, che è appunto questa raccoltina di racconti sulle donne, sulla crescita adolescenziale, su come una ragazza può vivere questo periodo. E niente, mi piace, mi ispirava molto e ho deciso di darmi ai nuovi formati di scrittura, quindi racconti, aforismi, poesie, di tutto un po'. Infatti, quello che vi presento dopo è, vabbè, scontatissimo, Milk and Honey di Rupi Kaur, sì, sono banale, tutti quanti lo stanno prendendo, ma volevo troppo prenderlo anch'io. 12 euro della 360, un'edizione pesantissima, ve lo assicuro, c'è, per un libricino di 200 pagine scarse, questo coso pesa tantissimo. Ed è appunto, come tutti quanti sappiamo, penso, una raccolta di poesie illustrata. E, non lo so, ho letto alcune poesie in giro e, mio Dio, ve ne voglio leggere una a caso, proprio. Ho fatto tanta strada per darti tutte queste cose e tu nemmeno le guardi. Basta, c'è, bellissimo, ho già capito che l'amerò tantissimo, non vedo tra di leggerlo. E, wow, aveva sopra una fascetta completamente bianca, comunque ho scritto una cosa del tipo romanzo che dovrebbero avere tutte le donne sul comodino. E dietro c'era appunto scritto la raccolta che sta facendo il giro del mondo, non aveva il genere, e in effetti è proprio così perché l'ho visto dovunque. Poi, 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 siamo agli ultimi due libri della prima parte. Libro che avevo acquistato, usato, sto comprovendo libri a ottobre, pochissimo dopo l'uscita in Italia, che però non mi è mai arrivato, grazie ai post, grazie mille davvero. E quindi l'ho comprato nuovo, ho detto, vabbè, vaffanbagno, ormai tanto non mi arriverà mai più, sono passata di sei mesi, quindi addio. Per un esorbitante prezzo di 19,90€, ma un'edizione molto, molto, molto bella, anche se, come sapete, l'ho pagata circa 16€ su Amazon. Non aveva bisogno di presentazioni, Harry Potter, la merizionde rete. E non mi spazio niente da questo libro, purtroppo, magari mi sorprenderà, lo spero tanto. Ho sentito sia cose belle che cose brutte, ma più cose brutte. E appunto, beh, la costina, il davanti, il retro, il retro con la sovracoperta. E niente, bellissimo. Certo, l'edizione inglese aveva nella sotto copertina lo stesso disegno della copertina, però, in rilievo, mi pare. Però fa niente, noi ci accontentiamo, alla fine ho tutta la saga in italiano, e quindi me lo tengo così. Anche se vorrei recuperare assolutamente un cufanetto di la saga in inglese, e vorrei davvero fare. La Tassola sta cercando di recuperare i romanzi illustrati in inglese, quindi, vabbè, lei stessa. Ho già la camera dei segreti in inglese. Non so se prenderò mai il primo, perché sì, chiedovenia, ma il primo Harry Potter non mi fa impazzire. Quindi, non lo so, mentre il secondo è uno dei miei preferiti. Comunque sia, per rimanere in tema, appunto, vabbè, questo libro qua è ritostato da un editore, e è lo script, appunto, dello spettacolo teatrale. Ultimo libro della prima parte di Ordine, anche questo libro che ho miscelito da tantissimo tempo, uscito in questa bellissima edizione italiana della PM. Lo voglio, praticamente, da quando ho letto Fangirl di Carry On, infatti, vabbè, complimenti Aurora. Da quando ho letto Fangirl di Rainbow Rowell ad agosto scorso, ed è, ovviamente, Carry On. Edito PM, Rainbow Rowell, 17 euro, prezzo di copertina, copertina rigida, con sovracoperta, sotto a questa meravigliosa illustrazione qua. Mi state perdendo tutti gli scritti che avevo fatto nell'unboxing iniziale, perché all'inizio l'ho rimasta sconvolta da questa sottocoperta, fantastico. Io preferisco decisamente la copertina italiana a quella inglese, stranamente. Vi faccio vedere anche la mappa dentro, che è bellissima. Che è questa qua. Della scuola di marcia di Watford. E niente, è veramente bellissimo. Non vi do d'ora veramente di leggerlo, anche questo. Ho sentito moltissime cose belle, ma anche qualche cosina brutta, attualmente, su Booktube Italia. Ma sono comunque super curiosa, e veramente questa copertina è un qualcosa di meraviglioso. Ora passiamo all'unboxing vero, che è questo qua. Questo qua. Poppa. Ok. Allora. Apertura facilitata, quindi non dovrebbe essere difficile. Infatti, ovviamente. Ok. 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 Oh mio Dio, non me l'aspettavo così rosso. Ok. Allora, sono tre libri. Sono questi tre libri qua, ve li faccio vedere così. Ho già fatto gli spoiler. Allora, vi lascio la chicca alla fine. Ho preso... Uccidano male di Alessandro Baricco. Io ho letto Seta a febbraio, mi pare. O forse a gennaio, no, a gennaio forse, e i novecento a febbraio. Mi hanno fatto impazzire follemente, soprattutto a novecento, e quindi ho detto, beh, recupererò l'altro grande romanzo di Baricco. Non vedo d'ora, poi, prossimamente, di prendere Città di Rabbia. E in realtà tutto quello che ha scritto Baricco, perché il suo stile mi fa impazzire da morire. Non vedo d'ora veramente di leggerlo. Non è fra le mie prossimissime letture, penso che andrà a quest'estate, in realtà, verso, magari, giugno, ecco, che tanto mi sembra il periodo perfetto, prima che inizino gli esami. Vabbè. E niente. Non vedo l'ora di leggerlo. Dell'Universale Economica Feltrinelli, per nove euro, ma l'ho pagato circa 7,80, 8 euro, una roba del genere. Secondo libro. Un'altra cosa di racconti. Ed è Paolo della matematica di Peter Cameron. Peter Cameron, io l'ho scoperto con Un giorno questo dolore di sarà utile, che è un libro che ho sentito pochissime volte nominato, ma le poche volte che ho sentito nominato è sempre stato super elogiato. Io l'ho letto tre o quattro anni fa, l'ho riletto poi a gennaio, perché volevo vedere il film e puntualmente poi non l'ho fatto, però fa niente. Comunque mi piace come libro, è un bel libro. Preferisco Noi siamo infinito, ma comunque è un bel libro. E quindi ho deciso di prendere la sua raccolta di racconti, Paolo della matematica. In realtà c'è anche un altro libro di Peter Cameron che mi interessa moltissimo, che è Il Weekend, che parla di una coppia omosessuale, fra le altre cose, e io sono fissata con questo tipo di tematiche perché adoro il mondo LGBT. E quindi comunque sia, non vedo l'ora di leggere anche Paolo della matematica, che è una serie di racconti, raccolti, oddio come mi sto impaffinando, in questo piccolissimo romanzetto, che però costa comunque 15 euro. E è lungo 100 pagine, poco più di 100 pagine. Forse questa sarà una delle prime letture, effettivamente. Infine, oh mio Dio, sono felicissima di questo libro. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Mettovi il pacco. Mamma mia. Dio mio. Ok? Mi impazzisco. Questo libro ha una storia veramente particolare. Io scrivo per un blog, di cui vi lascerò il link in infobox, spero di ricordarmi. E da un po' di tempo in realtà non scrivo più perché appunto questa quinta superiore mi sta uccidendo. Mi dico che bello. Vabbè. E grazie a questo blog avevo avuto la possibilità di conoscere la bellissima, fantastica, gentilissima, super meravigliosa Miriam Ciraolo. Io odoro quella ragazza. È veramente una persona piacevolissima, con cui parlare, semplice, alla mano, gentile. Non lo so, è una persona veramente, una bella persona, per quel poco che la conosco. E lei mi ha gentilmente inviato il suo romanzo in ebook da leggere. E l'ho letto appunto a luglio-agosto scorso, non mi ricordo. Forse anche prima. Non mi ricordo onestamente. E no, scherzavo. A luglio mi aveva inviato Robotic Art, che ho letto infatti. Che è lo spin-off di Beauty and the Cyborg. Ma io ho amato tantissimo quel libro. Troppo, veramente troppo. E quindi ho detto, vabbè raga, devo prenderlo, adesso che ho la possibilità. E ho preso Beauty and the Cyborg. E non ci posso credere perché è bellissimo. È un'edizione stupenda. Nonostante sia autopubblicato, è veramente un'edizione bellissima. E, oddio, è pesantissimo veramente. È stra pesante. E non mi aspettavo che fosse così grosso. Sono tipo quasi 400 pagine. È giganterrimo. Io ti ho fatto così, con tutti i social della carissima Miriam. Che vi consiglio ovviamente di seguire su Facebook, Instagram, dovunque voi vogliate. Goodreads e tutti gli altri social. E la costina è un qualcosa di supersonico. La copertina è superlativa. E io non lo so, lo adoro. E, oh mio Dio. Oh mio Dio. Cioè... Guardate che roba. Basta. Mi sento molto il piccolo Ruby a fare queste cose. Perché mi ricordo quando l'ha unboxato anche lui che l'ha comprato. E stiamo più o meno nella stessa condizione. E niente, io... Mamma mia. Basta. Non vedo l'ora di rileggerla appena uscirà il seguito. E ti prego mia, muoviti. Perché io ho bisogno di sapere come va avanti. Questa storia è meravigliosa. Non vi dico neanche nulla. Vi dico solamente distopico a retelling la bella e la bestia. Basta. Ho detto tutto. Ho detto tutto. Basta. Anche perché tanto chi non sa di cosa parla più, te ne sai, buona raga. Questo libro l'anno scorso ha fatto il boom su Booktube Italia. L'hanno letto tutti, praticamente tutti. E l'hanno tutti quanti amato. E lo capisco perché l'hanno amato. Perché è bellissimo. Oltre veramente all'edizione è stupenda. E qua non riesco a trovare dove si è scritto il prezzo. Ma comunque costa mi sembra 14 euro. Una cosa del genere. E mi vale veramente la pena. Perché il libro è bellissimo. E l'edizione ancora di più. Quindi, oh mio Dio, sta avvenendo un video lunghissimo. Ok. Dopo questo mega unboxing io cerco di tirare su i libri in maniera umana. Anche se sarà molto complicata la cosa. E vi faccio vedere. Oddio. Ok. Eccoli qua i miei nove libri. Sono felicissima. Non vedo l'ora di iniziare a leggerli. E ok. Adesso con questa pigna instabile sulle gambe. Vi saluto. E addio. Buon appetito. Buon appetito.